Adesso cambiamo argomento, parliamo di musica perché con grande successo si è concluso l'ultimo concerto stagionale organizzato dalla Società Catanese Amici della Musica. Ce ne parla Marco Carli. Il melodramma da Bellini ai nuovi assi del presente, una stagione ricchissima, quella presentata dalla Società Catanese Amici della Musica che ha celebrato il concerto conclusivo. Tutto esaurito per la serata finale che ha riproposto il costante legame fra tradizione e modernità di una terra che da sempre ha dato i Natali a maestri del melodramma. Nell'ultima serata sono state proposte le musiche di tre compositori del capoluogo etneo, uno per ogni secolo. Prima tappa l'Ottocento nel segno del Cigno, poi il Novecento con Gaetano e Manuel Calì. Tutto da scoprire la seconda parte del concerto interamente dedicata a William Grosso, giovane ma già affermato compositore oltre che pianista, cantante e organizzatore musicale, applaudito dalle platee di New York e di Los Angeles. William Grosso si è anche esibito nella veste di pianista con il contributo di un quartetto vocale che ha già collaborato con lui e annovera nomi di spicco come il soprano Carmen Salamone, il mezzo soprano Sonia Fortunato, il tenore Agatino Reitano e il baritono Giovanni Di Mare.